Ok, iniziamo questo episodio della PixelCraft che già succedono cose importanti. Lì in fondo abbiamo un boss Salamence, qua davanti un Pokémon Alpha come la Kazam, ma non solo, qua sul mio lato abbiamo Tyranitar Boss Ultimate. Abbiamo anche un altro boss ovviamente Ultimate, ma non solo, ne abbiamo ancora un altro. Questo vuol dire che campioncini oggi segniamo un nuovo record, perché quattro boss così tanto potenti non mi erano mai spawnati. Soprattutto se mi allontano troppo, come notiamo, uno è già sparito. Salamence. Che dannazione, non ho fatto neanche in tempo a sfidarlo. Ora, non so se ho una squadra adatta per fare questa sfida ragazzi, perché ho solamente il mio Tyranitar in vita e il restante del team è molto molto basso di vita ragazzi. Quindi in questo momento non so nemmeno se sono abbastanza pronto. Però per sfidare questo Tyranitar e aspettare per bene che la battaglia vada sui binari giusti, dobbiamo curare il mio Eternatus che grazie all'effetto dell'avvenimento può abbattere Tyranitar. Che piano piano ha preso abbastanza danno anche per effetto dell'avvenenamento e l'abbiamo eliminato. Ci ha dato una caramella XP Candy L. Ora però curiamo la squadra. Ma non solo, perché passando dal curatore, passiamo anche dal nostro amico qua davanti, che ha un messaggio importantissimo per noi. Ma prima di tutto, curiamo il nostro team. Io non potevo aspettare e ho già letto quello che ci vuole dire il nostro amico, ma voi aspetterete un attimino. Anche perché la squadra in realtà dell'episodio di oggi non è nemmeno quella che abbiamo con la disposizione. Ma ora l'importante è eliminare ogni boss, perché io spero che prima o poi qualcuno ci dia anche una Master Ball. Proviamo a eliminare Magherna, che in questo momento non soffre nessuna delle mie mosse di Eternatus. Magari lanciafiamme sì. Ok, almeno lanciafiamme ha funzionato. E questo Mediciam qua in fondo possiamo anche abbandonarlo, perché tanto non è né un boss Ultimate né un boss leggendario, perché non è nella sua versione Shiny, quindi possiamo lasciarlo lì. Questo Magherna ha invece dato solamente una caramella rara. Ok, partiamo malino. Ma in realtà è solo l'inizio, ragazzi. Come prima cosa voglio raccogliere tutte le ghicocche che ho a disposizione. Voi direte, Marco hai già tante Ultra Ball e Dusk Ball? Sì, però è sempre meglio farmare ogni singolo oggetto da mettere da parte. Almeno nel momento del bisogno, ragazzi. Poi possiamo anche utilizzare tutte quante le ghicocche che farmiamo. E mentre raccolgo tutto volevo chiedervi, ragazzi, se vi va, visto che tanti di voi me lo chiedono, potrei fare un piccolo tutorial su come installare la Pixelmon. E magari anche potervi dare questo mondo. Ora devo pensare un attimino come poter strutturare il tutto e fare una roba fatta per bene. Però, se volete che questa cosa succeda, ditemelo qua sotto nei commenti che potrei pensarci. E ovviamente, lasciate un mi piace e commentate con l'hashtag Sono un campione per essere salutati. Ora, prima di tutto dobbiamo comunque pensare a raccogliere ogni singola ghicocca. Così possiamo mettere tutto quanto a cuocere e possiamo lasciare qua. Almeno nel momento del bisogno avremo già fatto un ottimo lavoro prima. L'unico problema è che devo dividere le ghicocche e in questo modo si possono cuocere tutte quante. Quindi anche queste qua gialle. Con un bel po' di coal che voglio spartire anche da questo lato. Quindi dividiamo il coal per bene, magari qua ne mettiamo 5. Poi qua mettiamo le restanti ghicocche a cuocere. Ora però leggiamo un messaggio importantissimo. Perché il nostro amico qua davanti ci vuole dire che finalmente il portale dell'end della Pixelcraft si è aperto. Ma non solo, perché si trova proprio attorno al portale dell'ultra dimensione. In questo modo ragazzi potremmo avvicinarci. Ma è importante, affrettiamoci prima che si chiuda. E ci servirà una squadra completamente fatta da Pokémon Shadow. Questo vuol dire che in questo episodio andiamo a costruire una nuova squadra di Pokémon Shadow. Che potrebbe essere la nostra squadra ufficiale Shadow per andare nell'end. Che è una dimensione dove non siamo costretti ad avere nessun tipo di Pokémon come l'ultra dimensione. Dove siamo costretti a portare con il nostro Necrozma nella sua versione Shadow. Quindi questo possiamo già direi lasciarla a casa. Ma non solo ragazzi. Ho pensato anche a questo punto di dover prendere un box PC e utilizzarlo solo unicamente per i Pokémon Shadow. In questo modo possiamo organizzarci un attimino meglio. E in più possiamo finalmente capire come si è messi anche a livello di catture. Quindi in questo modo all'interno del box numero 5 posso mettere tutti i Pokémon di tipo Shadow. Che ora si trovano tutti quanti raggruppati qua dentro. Adesso sicuramente ragazzi con noi porteremo il nostro Rayquaza Shadow. In questo modo possiamo prendere Eternatus e metterlo direttamente via. Ma non solo. Anche Charizard e Iteranitar prendono il volo. Perché la nostra squadra deve essere composta solo da questi Pokémon speciali. Ora avendo inserito un Pokémon come Rayquaza che è di tipo Drago escludiamo qualunque altro Pokémon di tipo Drago come questo Eveltal che è fermo ancora a livello 85. Quindi non dovrebbe interessarci in questo momento. Anzi dobbiamo potenziarlo. Poi Kaiogre che è un Pokémon molto molto forte. Ricordiamoci ragazzi ha delle mosse molto utili anche. Delle buone statistiche a livello 100 è fortissimo ed è Shadow. Quindi inseriamo nella nostra squadra. Abbiamo poi Lugia e Shadow che è troppo importante perché puoi imparare tantissime mosse diverse da mettere in squadra assolutamente. Poi a livello 100 che abbiamo ragazzi. Purtroppo abbiamo solamente Charizard, Shadow, Graudon, Shadow e poi uno tra Necrozma e Mewtwo. Solo che Necrozma con me non lo voglio ragazzi. Quindi voglio con me Mewtwo, Shadow. In questo modo abbiamo composto una buona squadra. Non troppo bilanciata in realtà perché abbiamo tantissimi Pokémon di tipo Volo come Charizard, Lugia e anche un pochino anche Rayquaza. Ma comunque abbiamo una squadra stabile. E soprattutto tutta a livello 100. Ora devo cambiare anche a questo punto il braccialetto perché non voglio più utilizzare le Dynamics evoluzioni ma le Mega Evoluzioni. E come notiamo all'interno del mio team abbiamo Charizard che purtroppo in questo momento non ha nessuna Megapietra. Quindi togliamola direttamente da questo frame e la inseriamo direttamente qua, nello slot delle Mega Evoluzioni. Perché magari quel Charizard Mega Evoluto potrebbe essere giusto un po' più utile per noi. Ma ora andiamo verso il portale. Perché premendo questo tasto, andando quindi verso il portale dell'Ultra Dimensione, dovremmo entrare subito anche nel Land. Ok, e infatti questa cosa ha funzionato. Ma Land è tutto quanto fatto d'erba, in Grass Block. Capiamo com'è strutturata questa dimensione perché voglio utilizzare un Pokémon come Rayquaza che può essere comodo per volare. E in effetti, ragazzi, a quanto vedo, è tutto quanto strutturato come se fosse l'Overworld, cioè il mondo normale, con attorno dei Pokémon. Qua a giro. Ok. Questo cos'è? Un Espeon nella sua versione Shadow. Lapras, che è una versione completamente nuova, bellissima. Oh mio Dio. Questo è Eternatus nella sua versione speciale, che è molto simile al mio Rayquaza Shadow. Wow. Poi abbiamo Articuno di Galar Shiny. Ok. Mew Classico Shadow. Oh mio Dio, ma tutti questi Pokémon perché sono fermi? Poi c'è Upa Shadow. Ah, ok, ora capisco. Ora, ora comprendo cosa ci aspetta. Nell'enda, la prima battaglia che ci aspetta è questo Ash Boss Ultimate. Molto particolare come cosa, ragazzi, ve lo assicuro. Ma ha dei Pokémon molto forti, quindi. Che non so come sfidare, onestamente. Beh, io quasi quasi, però. Parto con il mio Kaiogre, che è uno dei miei Pokémon più forti contro Eternatus nella sua versione speciale Dynamax. Ok. Interessante. Oh mio Dio. Gli ho fatto tantissimo danno. Con Ice Beam ha preso tantissimo danno, davvero. Però mi ha fatto una mossa che mi ha cambiato il Pokémon. E mi ha messo in campo il mio Rayquaza, che con oltraggio dovrebbe fargli tantissimo danno e quasi eliminarlo. E ha cambiato Pokémon mettendo in campo Upa, che ha quasi distrutto il mio Rayquaza. Ok, sembra quasi una telecronica di una partita, ma attenzione, ci sono tante cose da seguire, perché Upa, grazie al mio oltraggio, ha perso metà della sua vita. Ora però, io a questo punto ricarico la vita del mio Kaiogre, essendo che Rayquaza verrà eliminato sicuramente. Perfetto. Upa è un Pokémon molto potente, che non so con cosa fermare. Prova a mettere in campo il mio Lugia Shadow Shiny, che proverà ad attaccare con Sky Attack. Lui mi ha fatto una mossa che non era molto efficace, e l'ho portato quasi a fine vita, ragazzi. Ottimo. Con il prossimo colpo dovrei eliminarlo. Il prossimo Pokémon in campo del nostro avversario è Articuno di Galar Shiny. Bellissimo, ragazzi, questo. Che però non so come attaccare, se non con Ancient Power. Vediamo. Sono stato eliminato. Ma io metto in campo Charizard, che potrebbe essere molto interessante, con una mossa come Flare Blitz. Mega evolviamo. Il nostro Charizard Shadow, e sblocchiamo per la prima volta, quindi la sua Mega Evoluzione Shadow, che è bellissima. Però potrebbe essere utile non tanto, ragazzi, perché ha fatto poco danno. Proviamo a guardare questa Mega Evoluzione Shadow, ragazzi, che sono bellissime. Le sue Mega Evoluzioni in questa forma speciale. Però purtroppo, ragazzi, la visuale della battaglia non è molto comoda, quanto vediamo. Ma comunque l'abbiamo sbloccato. L'unico problema ora è che verrà sicuramente eliminato. No, in realtà non sono stato colpito. Forse con la prossima mossa sì. Vita rossa. Machalizard per il contraccolpo è stato eliminato. Ora a questo punto metto in campo il mio Graudon Shadow. Noi dobbiamo vincere sicuramente questa battaglia, perché tramite questa vittoria possiamo sbloccare o l'ingresso nel portale, o tutta la nuova dimensione del land. Proviamo con Solar Beam, che potrebbe eliminare Articuno. No, Lava Plume. Mamma mia, è stato difficile, ragazzi. Lapras. Speciale. Che con Earthquake dovrebbe soffrire un po' la mossa. Mi ha fatto tantissimo danno. Lapras fortissimo, ragazzi. Solo che mi ha distrutto Graudon. Ora, metto in campo Mewtwo Shadow, perché la situazione non è per niente bella. Io riporto in vita sicuramente Rayquaza. Essendo che l'ho addormentato Mewtwo, io riporto in vita tutto quanto il mio team. E provo ad andare di Psy Strike, però lui si sveglierà solo nel prossimo turno, spero. Non si è svegliato? Allora riporto in vita altri Pokémon, come Graudon. Mewtwo è stato abbattuto. E sta cosa non mi piace. Vado di oltraggio per fare tantissimo danno. E anche Rayquaza è stato addormentato. Beh, a questo punto riporto in vita Mewtwo. E provo ad attaccare con Rayquaza, sempre con Extreme Speed. Magari si potrebbe svegliare. Ok, infatti si è svegliato. Abbiamo attaccato per primi. E eliminato l'Apras. Il prossimo Pokémon è questo Mewtwo. Classico Shadow. Bello. Che ha distrutto il Mewtwo quasi in un colpo. Ok, particolare come cosa. Mew come lo fermo? Forse con Kyogre. Proviamo, vediamo se riusciamo a fare Ice Beam. Per fare qualcosa tipo ghiacciarlo, ma nulla. Però andando avanti, piano piano, con una mossa come Idropompa, che fa tantissimo danno, lo stiamo portando a vita rossa. Ma in realtà è lui che ha portato noi a vita rossa. E probabilmente con la prossima mossa, mi rimiera. E infatti mi ha distrutto. Mette in campo Graudon. Che forse con una mossa come Lava Piuma un po' di danno glielo può fare nulla. Però l'abbiamo bruciato. Ottimo. Ci siamo bruciati a vicenda. E Graudon è stato eliminato. Vado di Lugia. Che a questo punto con Idropompa dovrebbe fare tanto danno, ma si è ricaricato la vita. Quanto è importante avere in squadra un Pokémon come Ternatus. Lo notiamo solo quando ci manca. Questo Mew continua a ricaricarsi la vita, però. Dannazione a noi. Ha finito le mosse con cui ricaricarsi la vita. E gli manca veramente poco. che è stato eliminato il prossimo Espeon. Bello, ragazzi, Espeon Shadow. Molto, molto particolare, soprattutto. Ora, posso andare di Idropompa per fare del danno. E Espeon ha risposto con altra mossa che però ha fatto pochissimo danno rispetto al fatto che questo è un Pokémon a livello 140. Io sono curioso più che altro del drop di questo Ash. Se mai dovessimo vincere questa sfida. Ora, Dragon Rush quasi eliminato Espeon, ragazzi. Vediamo la prossima mossa. Eliminato! Ti prego, Ash, dammi qualcosa di interessantissimo! Una Master Ball, una Beast Ball, una Ultra Ball, due, tre, quasi Ultra Ball e anche delle cure. Ottimo, ragazzi. E là in fondo si è presentato il portale del Land. Che però io, purtroppo, in questo momento non posso entrare perché non ho una Ender Pearl che sicuramente ho a casa. Però, ragazzi, là in fondo abbiamo l'ingresso che non so se in realtà ci fosse già prima. Però, in qualunque caso, io voglio entrarci sicuramente ma dal prossimo episodio. Nei campioncini ci possiamo fermare qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Voi lasciate un mi piace e scegliete il video qua davanti. Ciao!